E' stata trovata morta in casa in via vicinale Sant'Agnello nel quartiere Pianura di Napoli. Si tratta di rosa gigante incensurata che avrebbe compiuto 73 anni il prossimo 26 agosto. C'è il massimo riservo sulle indagini sul posto intervenuti gli agenti del commissariato Pianura e della squadra mobile di Napoli. In attesa della versione ufficiale si susseguono le voci che riconducono il decesso ad una causa violenta. La signora abitava in un appartamento al primo piano all'interno di un complesso di case su due piani. Tra le ipotesi prese in considerazione e in attesa delle risultanze ufficiali degli investigatori non si esclude quella dell'omicidio al termine di una lite. Arrestato il sindaco di Melito di Napoli, Luciano Mottola, è un vero e proprio terremoto giudiziario quello che si è abbattuto questa mattina sul popoloso comune della cintura a nord di Napoli. Un'inchiesta della direzione investigativa antimafia ha portato all'arresto di 18 persone gravemente indiziate a vario titolo di scambio elettorale politico-mafioso attentati ai diritti politici del cittadino, associazione di tipo mafioso, corruzione e concorso esterno in associazione mafiosa e tentata estorsione. Tra questi spiccano i nomi del sindaco Mottola, del presidente del consiglio comunale Rocco Marrone, di altri due consiglieri comunali e del coordinatore per Melito dell'azienda incaricata del servizio di igiene urbana, padre di un consigliere comunale già candidato sindaco alle elezioni dell'ottobre del 2021. Il provvedimento è frutto delle indagini svolte dalla DIA di Napoli e coordinate dalla DDA a partire dalle notizie inizialmente acquisite sull'interesse della criminalità organizzata di inserirsi nelle elezioni del sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale di Melito di Napoli. Il GIP ha ritenuto che allo Stato dalle indagini siano emersi gravi indizi sull'esistenza di un accordo già per il primo turno di votazioni, svoltosi il 3 e il 4 ottobre 2021, tra esponenti della criminalità organizzata operante in quel territorio, il clan Amato Pagano e alcuni rappresentanti della coalizione a sostegno del candidato sindaco Nunzio Marrone, quest'ultimo non indagato. Incidente sul lavoro nell'area industriale di San Marco Evangelista, nel Casertano, dove un operaio di 63 anni, Luigi Malatesta, è morto dopo essere caduto da un'altezza di 7 metri. L'incidente è avvenuto nel capannone di un'azienda che si occupa della lavorazione del vetro. Dai primi accertamenti effettuati dai carabinieri e dal Servizio Prevenzione e Sicurezza e Infortuni dell'ASL di Caserta, è emerso che il 63enne, residente a Macerata Campania, in provincia di Caserta, stava effettuando opere di manutenzione all'impianto elettrico dello stabilimento ad un'altezza di 7 metri, quando è caduto per cause su cui sono in corso le indagini dell'ASL. Blitz dei carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata e del reparto Parco di San Sebastiano al Vesuvio, 9 arresti per traffico illecito di rifiuti. Contestualmente i militari hanno eseguito anche il sequestro della sede dell'impresa interessata, nonché di due impianti di trattamento di rifiuti, di 7 autocarri e di 2 pale meccaniche, tutti di proprietà della ditta, verosimilmente utilizzati per la commissione del reato contestato. L'attività d'indagine condotta dai carabinieri della stazione di Ottaviano, con il supporto specialistico dei carabinieri forestali della stazione Parco di Ottaviano, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Nola e della Procura della Repubblica di D.A. di Napoli, è cominciata nel mese di gennaio del 2021, a seguito di verifiche effettuate su di un'impresa di smaltimento rifiuti operante in alcuni comuni vesuviani. Le fiamme gialle del Comando Provinciale di Napoli, impiegate nel quotidiano controllo economico del territorio, nelle aree calde della città dove le attività di servizio si sono ulteriormente intensificate, con costanti controlli a contrasto dei traffici illeciti, dell'abusivismo commerciale e dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto nei pressi di Piazza Bellini un trentenne di origine senegalese. In particolare alla vista dei baschi verdi del gruppo pronto impiego Napoli, il cittadino straniero si è dato precipitosamente alla fuga. Nuovo dispositivo di traffico ed è subito caos. Automobilisti spaisati che devono fare i conti con un ulteriore senso di marcia, questa volta è relativo a Piazza Municipio. La nuova strada che costeggia il fossato del Maschio Angioino è aperta ma nessuno la usa, mentre tutti si riversano su Piazza Borsa e sull'altro lato di Piazza Municipio, via Acton e via Cristoforo Colombo. Per chi arriva da Piazza Trieste e Trento non è più possibile svoltare a sinistra passando di fianco al Tar, per imboccare via Colombo, arrivare al porto o verso l'autostrada e Napoli Est. Sono impressionata dall'ampiezza del progetto, molto grande, che fa perno sulle attività educative. Grazie alla mescolanza sociale che realizzate qui con gli abitanti del quartiere e le persone che vengono da altre zone della città, credo che voi diate il meglio a chi ha meno. Daphne Charveriat è responsabile del laboratorio di innovazione e trasformazione urbana del comune di Marsiglia e fa parte della delegazione francese di responsabili pubblici e innovatori sociali che è in questi giorni a Napoli, in visita a Focus per conoscere il modello della fondazione dei quartieri spagnoli, la sua scuola diffusa che abbraccia tutto il quartiere e coinvolge tutti i suoi bottegai artigiani per combattere l'evasione scolastica e insegnare un mestiere a chi ha lasciato prematuramente i banchi di scuola. Il direttore di Focus Renato Quaia ha illustrato ai marsigliesi il progetto di rigenerazione delle funzioni della destinazione dell'ex istituto Monte Calvario, avviato dalla fondazione nel 2014 nel cuore dei quartieri spagnoli. I maggiori studiosi e clinici internazionali di farmaci somministrabili attraverso la pelle si sono riuniti a Napoli per la prima volta, in una serie di appuntamenti nell'arco di tre giorni all'hotel San Francesco al Monte in corso Vittorio Emanuele. Emerging Technologies in Trasdermal Drug Delivery, questo il titolo dell'appuntamento di respiro internazionale e di particolare rilevanza anche per l'industria farmaceutica italiana in toto. L'evento è stato organizzato da Materias con l'Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti Edoardo Cajanello e del Consiglio Nazionale per le Ricerche e l'Università Magna Grecia di Catanzaro. È stato inoltre promosso da IBSA, Institut Biochimic e Altergon Italia, partner strategici dell'iniziativa.